E salve a tutti ragazzi, benvenuti qui sul canale di LBDV, siamo in un altro episodio del Fanta Vlad, oggi i top e i flop di questa giornata di campionato. Ma partiamo subito con il primo portiere flop di questa giornata, Yoronen, 5 e mezzo che scende a 1 e mezzo. Tutto sommato una prestazione non raccapricciante, però 4 gol subiti, un brutto errore che dà fiducia al Bologna e lo rimette in partita, il Brescia perde in casa e parte della responsabilità è anche sua. Il portiere top di cui andiamo a parlare oggi è Meret. Meret, voto 7, comprensivo anche di bonus e malus, non subisce gol in una partita che può essere semplice per il Napoli, è fondamentale e decisivo soprattutto nei primi minuti dopo il vantaggio appunto partenopeo, fa un bellissimo intervento su Rigoni e sventa il possibile 1 a 1. Invece il flop difensore di questa giornata di campionato è Sabelli, una prestazione non bruttissima, 5 e mezzo il suo voto senza considerare i malus. Però lo mettiamo in questa lista abbastanza triste per l'autogol che ha fatto, il voto scende quindi a 3 e mezzo, corner del Bologna, deviazione maldestra e butta la palla in porta. Un po' sfortunato, un po' disattento, ma comunque presente in questa lista. Mentre per la prestazione appunto abbiamo delle menzioni diciamo di demerito. Innanzitutto Gaiolo, difensore del Parma, Marlon, compagno di reparto appunto di Sabelli al Sassuolo e Ferrari, altro compagno di reparto sempre al Sassuolo. Quindi reparto difensore del Sassuolo appunto non è eccelso in questa giornata. E anche menzione per Calabria del Milan espulso nel finale che salterà il derby. Difensore top di questa giornata invece è Ceppitelli. Voto 8, voto comprensivo di bonus 13 e mezzo. Giocatore del Cagliari, fa due gol, una munizione unica macchia diciamo sulla sua prestazione. Per dirne una, 70 presenze e 4 gol con la maglia del Cagliari prima del match di domenica. Poi ne fa due, quindi ha segnato la metà dei golli che ha fatto in 70 partite. Porta a casa i tre punti importanti insieme al rammarico dei fantallenatori che non l'hanno schierato. Menzione d'onore in questo caso per Cistana del Brescia e Crescito del Genoa. Flop centrocampo, abbiamo Rodrigo De Paul dell'Udinese, voto normale 4, voto comprensivo di Malus 3. Viene espulso, poco da dire, 35 minuti abbastanza trascurabili, Manatac Andreeva espulso. Menzione di demerito va anche a De Sena del Brescia, gioca leggermente meglio magari di quest'ultimo, ma è già ammonito, simula al secondo tempo un fallo in area di rigore, viene beccato dall'arbitro, espulso anche lui. E ora passiamo al reparto di centrocampo, un giovanissimo, un talento italiano della Roma Pellegrini, voto 8, voto comprensivo di bonus 10, in realtà anche qui una piccola pecca con un'ammunizione, ma fa ben 3 assist. Taniolo è in panchina, lui va a giocare alle spalle di Zeko e diventano 3 assist, una prestazione comunque nei 90 minuti di grandissimo livello. Menzione d'onore in questo caso per Kurtic della Spal, Mancoso del Lecce, Mkhitaryan della Roma e Sensi dell'Inter. Per quanto riguarda l'attacco, il flop di questa giornata secondo me è Stepinski, voto 4, voto comprensivo di Malus 3, intervento anche lui, scomposto, inutile, che segna molto la partita della sua squadra, una partita già complessa e Verona affrontava il Milan, quindi deve finire per forza in questa lista di demerito. Menzione di demerito anche per Santander del Bologna. E per concludere, il top attaccante di questa giornata di Serie A, Dries Mertens, 7 e mezzo il voto che diventa un 13 e mezzo a fronte dei due gol. Aggiungerei anche una traversa molto ingenerosa. Partita di qualità e di sostanza soprattutto, regalano i 3 punti a Napoli che aveva vissuto un periodo di abbattimento dopo la sconfitta con la Juventus. Menzione d'onore per Berardi del Sassuolo, due gol anche in questa giornata, che con i 3 della giornata precedente fanno 5 e lo portano ad essere momentaneamente il capocannoniere di questa Serie A. Per il video di oggi è tutto, io spero vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, i link in descrizione ci sono tutti i nostri social, Instagram, Facebook, Twitter, siamo veramente dappertutto. Lasciate un mi piace, commentate, supportateci ragazzi, ci serve veramente tanto, io ve lo ricordo sempre. Per il video di oggi è tutto, io vi ricordo inoltre i video di mio collega Luigi Sabinelli con analisi di mercato, domani ci sarà un nuovo video. Oggi è uscito un altro video, uno speciale flash Champions League del mio collega appunto Antonio Faiella che fa uno studio molto veloce ma comunque importante delle partite di Champions che giocheranno stasera, quindi andate a dare un'occhiata, il video veloce, molto breve e ve lo consiglio. Per il video di oggi è tutto, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi! Grazie a tutti! Grazie a tutti!